Il default aziendale è un rischio significativo per le imprese, soprattutto in tempi di incertezza economica. La gestione efficace e proattiva, con metodi di pianificazione e controllo, è cruciale per prevenire il default. Dal 2021, una nuova definizione di default è stata introdotta nell'Unione Europea, che considera situazioni finanziarie critiche e rapporti tra clienti e intermediari. Per ridurre il rischio di default, le aziende devono accelerare la riscossione dei crediti, rivedere gli accordi e tagliare i costi non essenziali. Gli strumenti di allerta, sia interni che esterni, sono fondamentali per prevenire crisi aziendali. La responsabilità dell'imprenditore è enfatizzata nell'aggiornamento delle norme sulle crisi aziendali e l'insolvenza. È essenziale avere strutture contabili, organizzative e amministrative efficaci per una crescita sostenibile e per superare le sfide nel mondo degli affari.